Oggi vi metto alla prova con una ciambella soffice con ricotta e gocce di cioccolato. Gli ingredienti sono 4 uova 200 g di zucchero 250 g di ricotta 320 g di farina mezza scorsa di limone grattugiato una bustina di lievito per dolci 100 g di gocce di cioccolato 120 ml di olio Metto le uova in una ciotola Perfetto Aggiungo lo zucchero E comincio a mescolare Aggiungo le scorze di limone E continuo a mescolare Ad amalgamare il tutto bene Poi Vesso l'olio E la ricotta E poi continuo ad amalgamare il tutto Benissimo Adesso Vesso la farina Un po' alla volta E continuo ad amalgamare Poi Aggiungo le gocce di cioccolato E continuo ad amalgamare A mescolare Ed infine Aggiungo La busta di lievito Per dolci E la mescolo Anche questa bene Dopo aver imburrato E infarinato lo stampo Verso il tutto nello stampo Aggiungo una spolveratina di zucchero E lo metto in forno A 180 gradi Per 45 minuti La ciambella soffice è pronta Speriamo bene